CIRSU Altra tegola sul consorzio rifiuti La regione sospende il conferimento dell'organico Economia La regione riconosce lo stato di crisi della Val Vibrata Cronaca Brizze dei carabinieri nel covo della banda di ladri degli appartamenti Calcio violento Divieto di frequentare gli stadi per 13 tifosi del Giulianova Sport calcio Il Teramo si difende dalla corte spietata del Pescara al capitano Speranza Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione Teleponte In questa prima edizione del nostro telegiornale I provvedimenti regionali che ieri il sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura Anticipava al nostro Tg sono arrivati Da oggi il CIRSU deve sospendere il conferimento della frazione organica dei rifiuti La regione Abruzzo ha infatti sospeso l'autorizzazione ambientale Intimando al gestore Consorzio Stabile Ambiente Di ripristinare gli ambienti della discarica a condizioni più salubri Con verifica entro un mese e una settimana per le contradduzioni A tutti i rilievi mossi dall'Agenzia regionale per l'ambiente L'ARTA, la cui relazione ha sottolineato l'esistenza di una vera e propria emergenza ambientale Ancora guai per il CIRSU La regione Abruzzo ha sospeso con effetto immediato il conferimento dei rifiuti organici Nell'impianto di Grasciano Riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti sulle altre linee dell'impianto La decisione è stata assunta alla luce delle criticità gestionali riscontrate dall'ARTA L'Agenzia regionale per la tutela ambientale Con una relazione arrivata il 19 gennaio al servizio gestione rifiuti della regione Ha segnalato numerose criticità nella gestione degli impianti In modo particolare nei locali di diversi capannoni dove sono stoccati e si trattano i rifiuti Questi locali non sono compartimentati, ovvero non sono chiusi Per questo non vengono assorbiti dai depuratori presenti nell'impianto i cattivi odori C'è dunque un problema di emissioni diffuse, non convogliate e non autorizzate E' stata inoltre rilevata la presenza di percolato in diversi punti dell'impianto In totale sono 18 le criticità ambientali riscontrate dall'ARTA tra settembre e dicembre 2015 Alla luce di tutto ciò il dirigente del settore rifiuti della regione Abruzzo, Franco Gerardini Ha deciso di alleggerire i rifiuti organici nell'impianto Che sono quelli che emanano cattivo odore La ditta che gestisce l'impianto ha sette giorni per le contradduzioni Per dire in sostanza se e come è già intervenuta per rimuovere queste criticità Entro 30 giorni la regione chiuderà il procedimento Intanto è stata fissata per l'8 febbraio una riunione a Pescara con tutti i soggetti interessati Curatori, tecnici, sindaci e ARTA Il rischio maggiore che il CIRSU corre è la sospensione dell'AIA, l'autorizzazione ambientale E di conseguenza la chiusura Al momento sono più della metà i comuni terramani che conferiscono i rifiuti nell'impianto del CIRSU Anche se per l'organico già da tempo la società che gestisce l'impianto lo portava fuori regione Dunque il provvedimento di sospensione della regione non dovrebbe avere ripercussioni immediate sul ciclo dei rifiuti La regione Abruzzo ha deliberato il riconoscimento per la Val Vibrata di area di crisi complessa Adesso il ministero dovrà pronunciarsi in merito affinché possano arrivare fondi a sostegno dell'economia vibratania Anche qui vediamo il servizio Da mesi provincia e regione hanno ripreso il dialogo con il ministero per lo sviluppo e l'economia Affinché la Vibrata sia riconosciuta come area di crisi complessa e possa beneficiare dei finanziamenti Che vengono messi a disposizione per le crisi industriali complesse del sistema locale del lavoro Si tratta di fondi che consentirebbero di finanziare anche opere infrastrutturali Come la Pedemontana Nord oltre le misure a sostegno del sistema impresa e dei lavoratori E sul fatto che ci si trovi di fronte ad un'area di crisi complessa I dati lasciano pochi dubbi Dal 2008 al 2015 sono stati persi 5.845 posti di lavoro 503 sono le imprese interessate da procedure concorsuali 178 quelle già fallite Di cui 153 nell'ultimo quinquennio Se dovessimo ottenere questo risultato noi entreremmo come altre 4 aree italiane In un territorio nel quale il governo con i soldi che ha messo a disposizione Ci può offrire un accordo di programma quadro Dentro al quale noi possiamo inserire d'accordo con il governo Interventi anche infrastrutturali a favore delle imprese Ma soprattutto usiamo la legge 181 Che è una legge che dà sostegno alle attività delle imprese Sempre secondo quello che l'Europa ci consente di fare Tenendo conto del fatto che noi la vibrata Però l'abbiamo già inserita nel cosiddetto 107.3C Cioè nelle aree che possiamo più intensamente aiutare Tenete presente che contemporaneamente Nei prossimi giorni uscirà il regolamento per le aree di crisi semplice Che anch'esse possono entrare nella 181 E adesso dobbiamo capire quali sono i parametri Ma naturalmente io penso che noi dovremmo proporre la vibrata Anche come aree di crisi semplice In modo che almeno una delle due cose la portiamo a casa Perché la vibrata Ci sono altre aree abruzzesi che sono in crisi Qualcuna perfino forse in crisi ancora peggiore Di quanto non sia la vibrata Ma la vibrata ha due specificità Intanto questo fatto di marciare insieme alle marche Noi abbiamo fatto il 107.3C Perché l'abbiamo fatto un pezzo noi e un pezzo loro Ma soprattutto perché ha una storia Una grande storia imprenditoriale Ed è una storia che Ancorché colpitissima dai mercati È viva Stanno ancora lì È una zona vitale Una zona sulla quale inserire degli investimenti Inserire degli aiuti Inserire dei sostegni Vuol dire ridare vita a imprenditori che ci sono Insomma a lavoratori professionalizzati Io ci credo che la vibrata Ha ancora in sé il germe Per ridiventare quello che era qualche anno fa Cioè l'area di punta dell'industria bruzzese Apriamo adesso la pagina di cronaca I carabinieri della compagnia di Alba Adriatica In collaborazione con i colleghi Della stazione di Corropoli e Sant'Egidio Alla vibrata Nell'ambito di una serie di controlli Disposti dal comandante Maggiore Emanuele Mazzotta Hanno effettuato la scorsa notte Un blitz in un casolare in disuso Nelle campagne di controguerra Utilizzato come ricovero Da un gruppo di cittadini stranieri Sospettati di organizzare furti Nelle abitazioni Nel corso della perquisizione militare Hanno individuato e denunciato per ricettazione Tre albanesi tra 26 e 30 anni Dei quali due clandestini in Italia Il terzo regolarmente presente sul territorio nazionale Ritenuto il basista in zona per la banda Nel casolare sono stati infatti rinvenuti Materiali elettronici come personal computer Tablet e televisori anche di nuova generazione Cellulari Apple e Nokia Macchinette fotografiche Una decina di orologi da donna Piccoli oggetti in oro Un giubbotto e perfino una chitarra Il materiale secondo quanto ricostruito dai carabinieri Proverrebbe da furti e danni di circa una decina Di famiglie di Ancarano, Corropoli, Controguerra, Torano Nuovo E Appignano del Tronto, Nell'Ascolano La stessa refurtiva del valore di circa 20 mila euro È stata restituita ai proprietari Le indagini adesso proseguono per individuare Altri proprietari della merce trafugata Ma anche se la banda sia responsabile di altri furti commessi nella zona E adesso parliamo anche di calcio violento 13 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive Sono state firmate dal questore di Teramo Nei confronti di altrettanti ultra del Giulianova Calcio Protagonisti lo scorso 8 novembre Degli scontri con tifosi dell'opposta fazione Al termine della partita Giulianova-Vezano Valevole per il campionato di Serie D nel Girone F Per otto di loro il provvedimento ha durata di tre anni Per gli altri di due Tutti e 13, oltre ad essere stati raggiunti dal DASPO Sono stati anche denunciati alla magistratura Per violenza e resistenza pubblico ufficiale Lesioni personali, danneggiamento E solo per alcuni, anche di travisamento Al termine della gara che sul campo si era conclusa Con il punteggio di 0-0 I tifosi usciti nei piazzali Dai rispettivi cancelli dei settori Si erano affrontati dietro allo stadio Fadini Con cinghi e bastoni Con lo scontro anticipato dal lancio di sassi e petardi Soltanto l'intervento dei carabinieri Aveva impedito che la rissa degenerasse Con un bilancio pesante di feriti Tra e opposte tifoserie Torniamo a parlare di lavoro Circa 400 operai impiegati In quattro cooperative Che si occupano della pulizia Delle sedi scolastiche In tutta la provincia di Teramo Rischiano la riduzione delle ore di lavoro Se non addirittura il posto stesso di lavoro Questa mattina c'è stato un incontro sindacale In provincia Vediamo com'è andata Incontro sindacale Per una problematica E qualche criticità Che riguarda il mondo delle pulizie nelle scuole Cosa sta accadendo Presidente? Sì Ci sono delle problematiche legate Innanzitutto al rifinanziamento di scuole belle Quando il Ministero Decise di fare Una gara a livello nazionale Per la pulizia nelle scuole E quindi ci furono dei vari affidamenti In tutta Italia Nel corso poi del tempo Sostanzialmente sono diminuite le risorse Da mettere a disposizione per le pulizie E quindi anche per il pagamento Degli stipendi dei lavoratori Delle cooperative interessate In passato è stato sostanzialmente integrato Chiamiamolo così Sono state integrate queste risorse Con il finanziamento di scuole belle E lì il personale delle cooperative furono E sono state fino a poco tempo fa Interessate dai lavori Oggi abbiamo un problema appunto Col rifinanziamento Di scuole belle E abbiamo naturalmente a questo punto Una criticità Per il pagamento degli stipendi Nei confronti dei lavoratori O meglio Più che per il pagamento degli stipendi Per il mantenimento delle ore E delle ore di lavoro Che già non sono tantissimi Parliamo di circa 400 lavoratori Stiamo parlando di una questione Che interessa complessivamente 400 lavoratori Tanti sono quelli impegnati Nelle scuole primarie e secondarie Di tutta la provincia di Teramo Ovviamente non è unico il datore di lavoro Sono interessate quattro cooperative Che diciamo anche loro Stanno subendo e soffrendo sostanzialmente Questo taglio di risorse Le tematiche sono due Una è quella di farsi portare voce Come istituzioni territoriali verso il governo Perché appunto Questa questione venga sanata Anche in modo strutturale Perché non è che si possono dare Di finanziamento ogni tanto Giusto per poter poi Integrare gli emolumenti E secondo invece Quello di magari registrare un po' Alcune cose che non vanno Nella gestione da parte delle cooperative Interessate Questo è il senso dell'incontro oggi in provincia I sindacati della Camera di Commercio di Teramo Come in tutte le Camere di Commercio d'Italia Hanno indetto lo stato di agitazione E un'assemblea dei dipendenti Che si terrà domattina Per l'adozione di ogni possibile Iniziativa a contrasto Dell'ulteriore taglio dei servizi E del personale E di questi giorni La notizia che il governo Attraverso l'adozione di un decreto delegato Imporrebbe una riduzione Del 15% del personale Che poi diventerebbe 25% Per le Camere di Commercio Accorpate Con conseguente esubero Di circa 1.000 unità Sulle quasi 7.000 Oggi impiegate direttamente Dalle Camere di Commercio Con gravi ripercussioni Su intero sistema camerale Si tratta, dicono I sindacati Di una violazione del testo Della legge delega Che scarica i costi Della riforma Sui lavoratori del sistema Ignorando la stessa Determinazione della legge delega Sul mantenimento Dei livelli occupazionali Tra l'altro Abbandonando a se stesso Tutto il resto Del sistema camerale È iniquo ripagare In questo modo L'impegno profuso In questi anni Da tanti lavoratori Che hanno fatto Del sistema camerale Una delle eccellenze Della pubblica amministrazione Italiana Dicono ancora I sindacati Le stesse organizzazioni Sindacali Rivolgono un forte appello A tutti i parlamentari Affinché le previsioni Del decreto delegato Siano conformi Ai vincoli E alle indicazioni Dettate dalla legge delega Approvata da loro stessi Torniamo adesso a Teramo Stanno per scadere Le autorizzazioni annuali Che consentono Di entrare con le auto Nella zona a traffico limitato Del centro storico L'assessore Giorgio Di Giovangiacomo Raccomanda Di rinnovare Queste autorizzazioni Per non incorrere In contravvenzioni Intanto il nuovo parcheggio Dietro l'area di risulta Della stazione ferroviaria Resterà gratuito Almeno fino al 15 febbraio Il servizio Si avvicina la data Del rinnovo dei pass Per la ZTL a Teramo Dunque attenzione A tutti i professionisti In particolare Che ne fanno uso Perché dopo quella data Se non viene rinnovata Scatta la multa Sì Diverse categorie Tranne i residenti E alcune altre categorie Diciamo i permessi Nell'ingresso della ZTL Andranno in scadenza Nel giorno Stabile Del primo rilascio Dunque per evitare Comunque diverse Diverse polemiche Che possono venire Su questa cosa Abbiamo preferito Scrivere Ogni singolo Richiedente Della prima richiesta Dunque arrivano le 3 A casa Dove bisogna Solo riempire Un modellino E attestare I requisiti Precedentemente Dichiarati Nella prima dichiarazione A proposito Del parcheggio Dietro la stazione Che sta comunque Ottenendo i risultati Sperati Ovvero Sempre tante auto Posteggiano In quell'ampio parcheggio Diciamo che Non sarà il 30 gennaio L'ultima data Utile per parcheggiare Gratuitamente Sì Sono contento Perché il parcheggio È molto Fruito È molto apprezzato Anche dai commercianti Che in un primo momento Avevano qualche perplessità Abbiamo preferito Rallentare un attimino La procedura Di affidamento Per dare Un attimo Più di possibilità A coloro che utilizzano Di utilizzare il parcheggio Senza pagamento Però io penso Che da Da metà febbraio Come è giusto che sia Siccome i commercianti Ci hanno chiesto Di prorogare un attimino Questa attività gratuita Abbiamo preferito Dargli un attimino Più di vantaggi Commerci Però dal 15 Massimo 20 febbraio Il parcheggio Sarà pagamento Ma un pagamento Come abbiamo detto Precentemente In maniera accettabile Possibile Per tutti Ci saranno Degli appositi operatori O verrà installata Una macchinetta Per il parcheggio Sì Ci saranno i parchimetri E sarà dato sicuramente In maniera provvisoria In attesa Della gara commerciale Di parcheggio In centro storico In zone limite In centro storico Alla Tercop Dunque la Tercop Gestirà con Dei propri ausiliari Del traffico E controllerà Chi ha parcheggiato Se ha utilizzato Il parcheggio Altrimenti Scatterà la sanzione Che però È di competenza Della Tercop Che gestirà Quell'area Il programma Il programma di sviluppo Piegato in particolare In questi incontri A novembre 2014 Abbiamo avuto approvato Dalla commissione europea Il programma di sviluppo Rurale Sono 433 milioni di euro A disposizione Di tutta la comunità Agricola regionale In particolar modo Alle 66 mila Imprese Abruzzese Stiamo sviluppando Una serie di attività Di comunicazione Su tutto il territorio Regionale Per comunicare Le opportunità E per evidenziare Agli agricoltori Non solo Tutte le opportunità Del programma di sviluppo Rurale 14-20 Sono sostegni Assolutamente Importanti E fondamentali Inizieremo Con il primo bando Circa i giovani In agricoltura I primi insediati In agricoltura C'è un'attenzione Particolare Da parte dei giovani Verso il settore primario E verso l'agricoltura Noi cercheremo Di accogliere Questo entusiasmo All'interno Della misura giovani Ove abbiamo previsto Di riservare 45 milioni di euro Quanti sono I fondi Che possono essere Date Ad ogni singolo Imprenditore Di cui può soffrire Ma dipende Da misura A misura Ovviamente L'intervento Pubblico Sarà intorno Al 50-60% Dell'investimento Complessivo Sarà processato Con il rito Abbreviato Il prossimo 14 aprile L'ex direttore Generale Da Banca di Teramo Roberto Profeta 59 anni Chiamato in giudizio Per estorsione Ed uso Di atto falso Da sostituto Procuratore Greta Aloisi Sulla base Della denuncia Di un imprenditore Teramano Che accusa Il dirigente Bancario Attraverso Le registrazioni Telefoniche Di averlo Costretto ad acquistare azioni Dell'istituto di credito Per circa 60 mila euro A nome di mogli e figli I fatti contestati Risalgono a un periodo Che va dal 2011 Al 2013 Oggi Il giudice per le indagini preliminari Domenico Canosa Ha accolto la richiesta Di giudizio abbreviato Avanzata Da legale di Profeta L'avvocato Fabrizio Acronzio E contestualmente Ha ammesso anche La costituzione di parte civile Nel procedimento giudiziario Dell'imprenditore Del figlio Rappresentati dall'avvocato Gianni Falconi Quali persone offese Danneggiate Dal reato E della curatela fallimentare Della ditta Electric Power SRL Della famiglia Dell'imprenditore Quale danneggiata Dal reato L'agility dog Del parco fluviale Di Teramo Negli ultimi tempi Resta spesso chiuso Diverse le lamentele Degli utenti Tanto che L'amministrazione comunale Sta valutando Di ritirare La concessione al privato Che lo gestisce Vediamo Numerose lamentele Sono arrivate Perché l'agility dog Nel parco fluviale Di Teramo E' chiuso Quindi a questo punto L'amministrazione comunale Che ha concesso In uso ad un privato Questa zona del parco Come si muoverà? Sì Ricordiamo Quando fu fatto Il famoso bando Per la concessione Dei lotti Dell'anello fluviale Solo questo lotto Fu assegnato A questa società Che inizialmente Non ha creato problemi Effettivamente Non abbiamo registrato Mai problematiche Sulla agility dog Tranne che Ultimamente Arrivano diverse segnalazioni Sia a me E sia l'ufficio Che diciamo Aperto in maniera Discontina Questo chiaramente Non può essere Ce ne siamo subito Interessati Abbiamo subito Contattato i gestori Di questa agility dog Pregandoli per il momento Intanto di Continuare con l'apertura E la chiusura Secondo gli orari Stabiliti Della agility dog E comunque Con l'ufficio Stiamo valutando La retrocessione Della concessione E riassegnare Poi successivamente A quell'area E a questo punto Di valorizzarla Perché comunque Ho notato Perché sia come assessore Sia come Persona che usufruisce Della agility dog Perché pure io Vado regolarmente Con i miei cani Della agility dog Di puntare Di riquarificarlo Casomai Facendolo gestire A qualcuno Propriato Cioè a qualche associazione Appunto Che naviga Nel mondo Degli animali Dei cani in particolare In modo che Con più fantasia Può valorizzare Ancora di più Quell'area Adesso andiamo a Giulia Nova Perché c'è poca sicurezza Nel quartiere Centro storico Al paese I cittadini porteranno In consiglio comunale Una proposta Per chiedere Una migliore vivibilità E una maggiore sorveglianza Anche attraverso L'installazione Di alcune telecamere Vediamo il servizio Una proposta Ed iniziativa popolare Per la sicurezza Del quartiere Del centro storico Se ne è fatta carico Anna Braga Nel presentare Quest'iniziativa Nell'assemblea Del quartiere Lei che è presidente Ma che accade? Allora Il quartiere Da parecchio tempo Denuncia Delle situazioni grave Tra cui tu hai riportato Pure degli articoli Sul giornale E risaliamo ad anni fa Addirittura l'ultimo grave L'anno scorso Dove dei cittadini Vennero minacciati Addirittura di morte Presero delle botte Quei cittadini Purtroppo oggi Nel quartiere Non ci sono più Perché hanno cambiato casa Hanno cambiato casa Sono andati via A noi dispiace Vedere morire così Il quartiere È un quartiere Che offre Parecchie possibilità L'abbiamo visto Con la giornata del FAI Adesso che la RAI È venuta Per la città rinascimentale L'avete pulito? Noi questa volta Non l'abbiamo pulito Qualcuno è venuto A pulire Come era? Era sporco veramente? Beh il quartiere In alcune zone Era sporco Perché non bisogna Penalizzare poi Quei cittadini Che realmente puliscono E fanno il loro dovere Bisogna Sanzionare Quei cittadini Che puntualmente Sporcano E quando vanno Gli operatori preposti Non vogliono nemmeno Che puliscono Perché quello È il loro spazio Cioè Quello è il loro Non li fanno pulire? No 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 Li minacciano addirittura Quindi si è arrivato Proprio Chi fa la totale anarchia E chi poi Rispetta le regole Perché Ha un senso sviluppato Del senso civico È una coscienza civile Allora voi che cosa proponete Noi abbiamo proposto Appunto Questa vivibilità Maggiore nel quartiere Che già Ho definito In parte Poi una maggiore Sorveglianza Da parte Della pubblica sicurezza E se si potesse Attuare di nuovo La videosorveglianza È il ripristino Di quelle associazioni Di categoria Che già sono presenti Nel centro storico Sono associazioni Di volontariato Come carabinieri In pensione E la polizia penitenziaria E in più c'è da dire L'altra sera Abbiamo affrontato Tutte le problematiche I cittadini Hanno avuto Dei toni pacati Perché adesso Arrabbiarsi Non serve a più niente Bisogna agire Noi la porteremo All'esame Del Consiglio Comunale Perché l'Assemblea Del 25 gennaio Di quest'anno Del 2016 Ha deliberato Questa cosa Al via Gli Open Days Della scuola dell'infanzia Gemma Marconi di Teramo Domani pomeriggio Dalle 14 alle 18 E sabato mattina Dalle 9 alle 12 L'istituto in via Rosati Vicino Piazza Dante Aprirà le porte A genitori e famiglie Che potranno così visitare La struttura E conoscerne servizi E offerta formativa Le attività di accoglienza E informazione Saranno gestite Dal dirigente scolastico E dagli insegnanti Sarà inoltre Gestito uno spazio Per le attività ricreative Rivolte ai bambini Che accompagneranno I loro genitori Gli Open Days Della scuola Marconi Continueranno anche a febbraio Con altri due appuntamenti Che si terranno Venerdì 12 Dalle 14 alle 18 E sabato 13 Dalle 9 alle 12 Adesso è arrivato il momento Delle previsioni Del tempo Il servizio è curato Da Meteoteramo.it Poi affronteremo La pagina sportiva Di questo nostro notiziale Previsioni per oggi In Abruzzo Dal pomeriggio Fino a notte Cielo in prevalenza Sereno Temperature stazionarie Massime comprese Tra 13 e 16 gradi Nelle conche Aquilane e Marsicane Tra 18 e 21 gradi Sulle pianure adriatiche Venti deboli orientali Mare calmo Quasi calmo In provincia di Teramo Al pomeriggio Sereno Su gran parte Del territorio provinciale In serate Nella notte sereno Temperature stazionarie Massime comprese Tra 14 e 17 gradi Nelle pianure dell'entroterra Tra 13 e 16 gradi Sulle coste Venti deboli orientali Mare quasi calmo Apriamo con il calcio Questa pagina sportiva Il Teramo rischia Di perdere Il suo capitano Il Pescara Sta corteggiando Con insistenza Ivan Speranza E spera di mettere Le mani Sul suo cartellino Entro il primo febbraio Giorno di chiusura Del mercato Di riparazione Il presidente Luciano Campitelli Per il momento Resiste E ha dichiarato Il giocatore Incedibile Non è però escluso Che Biancazzurro Possa tornare alla carica Nei prossimi giorni Cercando di accontentare Il Teramo Con un'offerta economica Piuttosto sostanziosa Intanto Sul fronte Entrate Dopo lo stop All'arrivo di Scapuzzi Per il no Posto dal Allenatore Del Como Gianluca Festa Adesso l'obiettivo È una seconda punta A riguardo Si sono raffreddate Le piste Che portano A Beltrame Della Provercelli E a Petkovic Dell'Entella Intanto Il portiere Tonti Ha parlato del match I domenica Contro il Sant'Arcangelo Per adesso È una sfida Salvezza Ma se giochiamo Come a Pisa Le cose Ha detto Il portiere Bianco-Rosso Potrebbero cambiare E potremmo rientrare In corsa Per obiettivi Più importanti Ascoltiamola La vittoria Ottenuta Nell'ultimo match Di campionato A Pisa Ha caricato A mille Il Teramo Per vincere Una partita Ci vuole Il contributo Di tutti E quindi Abbiamo fatto Una gran vittoria In un campo Molto difficile E Ho visto In loro Un grande entusiasmo Sia dentro Che fuori dal campo Pubblico eccezionale Quindi Il merito Penso sia stato Doppio Dopo le vicissitudini estive E i travagli Partiti a inizio Campionato Adesso i Biancorossi Stanno vivendo Un momento positivo E sognano La risalita Verso l'alta Classifica Evidente che qualcosa È cambiato Io Sento già Anche durante Settimane Nello spogliatoio L'aria Che si respira Totalmente Un'aria diversa E quindi Dobbiamo Continuare Su questa strada Perché siamo Nella strada Giusta Adesso bisogna Confermarsi Domenica In casa Sappiamo Che in casa Esprimiamo Un gioco Migliore Che fuori casa E quindi Dobbiamo Solo confermarci Il cambio di marcia C'è stato Soprattutto in difesa Nelle ultime tre gare I Biancorossi Infatti hanno subito Solo un gol Un dato in controtendenza Con quello fatto registrare Nella prima parte Di stagione Quando furono subiti 23 gol In 16 gare Il lavoro fatto Durante la settimana Sicuramente È molto importante Abbiamo lavorato Già da diverse settimane Sulla fase difensiva Curando Il minimo dettaglio Ascontando bene Quello che ci chiede Il mister E penso che Nelle ultime due tre gare Abbiamo fatto Abbiamo fatto Un ottimo lavoro Decisivi Sul cambio di rotta Del diavolo I nuovi arrivi Forte e Cruciani Hanno dato una scossa Al gruppo Allenato da Vincenzo Vivarini L'arrivo di Forte e Cruciani Ha dato una svolta Specialmente A livello mentale Perché sono due ragazzi Eccezionali Fin da subito Hanno dimostrato Che ci potevano dare Un contributo Molto importante Non solo Tatticamente Ma che ripeto A livello mentale Quindi Mi hanno fatto subito Un'ottima impressione Intanto Domenica Arriva il Sant'Arcangelo Per Tonti Quella con i Romagnoli È una sfida salvezza Ma con una Sottolineatura importante Per adesso Per adesso Rimane uno scontro Salvezza Poi Poi si vedrà Alla lunga Tiriamo le somme Alla fine Sono convinto Che se Continuiamo A avere questa mentalità Questa concentrazione Come abbiamo dimostrato Nelle ultime gare Non so se Sia troppo tardi Ma Ci proveremo Fino alla fine Prima di chiudere Con una notizia di Palacanestro La Globo Info Service Campri Piazza un colpo di mercato Si tratta di Daniele Tomasello Centro classe 1993 203 cm di altezza Tomasello arriva Dall'Aerobasket Roma Girone C Di serie B Società con la quale In questa prima fase Del campionato Ha totalizzato 16 in 16 incontri 5,5 punti di media E 4 rimbettanti Dopo gli addidi Di Giulio Maria E Fattori Dunque La società farnese Corre a ripari Regala un nuovo elemento All'organico A disposizione Del coach Piero Milina Questo è tutto Io mi fermo qui Grazie per averci seguito Appuntamento All'edizione delle 19.15 Nel frattempo Buon proseguimento Di programmi Con Teleponte Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.